E' nata una campagna per modificare la legge della cittadinanza. Di che cosa si tratta e che cosa porterà? L'Italia ha una legge sulla cittadinanza abbastanza recente, del 1992. Però questa legge sulla cittadinanza è stata pensata avendo in mente un'Italia che non c'è più tanto, l'Italia della emigrazione. Non è stata pensata per il cambiamento che già era in corso nel 1992 e cioè che l'Italia era sì un paese di emigranti ma stava diventando anche un paese di emigrati. Dunque noi ci troviamo con una legge sulla cittadinanza che richiede dieci anni di presenza consecutiva sul territorio nazionale all'immigrato per poter rivolgere domande di cittadinanza ma soprattutto, questo è l'aspetto che voglio sottolineare, è una legge particolarmente ostile nei confronti dei minori perché recita la legge che per rivolgere domanda di cittadinanza il giovane, perché di questo si tratta, deve essere vissuto ininterrottamente per 18 anni sul territorio italiano. Al compimento del 18esimo anno di età può rivolgere domande di cittadinanza.